buongiorno ragazzi ben trovati benvenuti sul profilo di xenios ancora una volta siamo insieme per proporvi un nuovo workout durante questa quarantena che ci vede tutti a casa allora ci sarà un riscaldamento un lavoro centrale ed una parte finale di core ora vi dirò tutti gli esercizi dopo di che ve li mostrerò uno per uno quello che ci servirà per lavorare oggi sarà una corda per saltare e un kettlebell una kettlebell per quanto riguarda il core sarà con il sovraccarico io personalmente utilizzerò una med ball da 6 kg allora iniziamo quindi con il riscaldamento che saranno tre giri di faremo 10 jumping jack 10 down dog e 5 kangaroo squat passiamo al lavoro centrale al workout che sono invece quattro giri di 42 double under 21 stacchi 14 over head squat e 7 devil press ad un braccio possiamo indifferentemente usare o la kettlebell o il manubrio io prima ho parlato di kettlebell ma in realtà è perché io utilizzo quella ma in realtà è indifferente dopodiché ci sarà il lavoro di addome e saranno due esercizi 30 20 10 con sovraccarico come vi dicevo userò la med ball quindi weighted sit up e weighted russian twist questo è quanto ora vi mostro uno per uno gli esercizi state a casa divertitevi allenatevi e ci vediamo alla prossima un bacio ciao 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 oh Oh no. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.